Musica Ciao gentaglia, sono lasciato a hate you, questo è Breaking Italy, spero abbiate passato un buon martedì Apple Watch, Apple Watch dappertutto, visto che già ieri mentre pubblicavo alcuni di voi su Twitter mi hanno chiesto se stessi seguendo l'evento Apple di presentazione dei nuovi Apple Watch che è la seconda presentazione in effetti perché sono già stati presentati a settembre del 2014 ma adesso sono imminenti Apple Watch, Apple Watch e quindi eccoli qui e quando dico imminenti intendo aprile del 2015, arriveranno ad aprile del 2015, però imminenti e quando dico ad aprile del 2015 intendo non in Italia comunque perché per ora sta roba sarà disponibile negli Stati Uniti e in qualche altro paese tipo la Germania giusto per farvi incazzare, mi sembrava giusto buttarla lì e visto che stiamo parlando di Apple e siete già tutti pronti a incazzarvi, volevo chiedervi Voi cosa ne pensate? Perché non è affatto mistero che a me piacciono i prodotti Apple e so che ogni volta che mi piace qualcosa, specie qualcosa di relativa alla tecnologia o dei videogiochi o di qualsiasi altra cosa bisogna aspettarsi orde di persone che vengono a dirti che non hai ragione ok? Sbagli, sbagli, sbagli tutto sempre però una delle ragioni per le quali effettivamente io non comprerò questo oggetto è che è molto costoso ce ne sono tre versioni come saprete una è la Apple Watch Sport che è la versione con i cinturini di gomma e che costa già quella un culo di soldi si parte da 349 dollari e arriva sino a 400 dollari c'è la versione normale che va da 550 a 1100 e poi quella con la cassa d'oro, cioè non dorata, d'oro che arriva a costare quasi 20.000 dollari, insomma un sacco di soldi che mi sembrano troppi per quello che questi device possono fare non ho dubbi però sul fatto che non appena questo prodotto arriverà venderà un sacco probabilmente darà una spinta al mercato perché è sempre quello che accade quando Apple si butta su qualcosa dà delle spinte al mercato e modifica il mercato che vi piaccia Apple o che non vi piaccia Apple e beh, è la verità, succede inoltre potrei o potrei non aver già prenotato la versione colorata del nuovo Pebble che arriverà ad aprile grazie a una gigantesca campagna di Kickstarter veramente, veramente impressionante e per chi non lo sapesse l'originale Pebble era stato ugualmente lanciato su Kickstarter è una sorta di smartwatch che inizialmente era in bianco e nero perché invece di essere un piccolo telefono sul polso quindi con lo schermo che è a tutti gli effetti un mini tablet usa delle tecnologie che si chiamano e-paper e insomma c'è anche questo è palese che il futuro stia andando verso quella direzione è inutile che cerchiamo di dire non serve a nulla, nulla serve a nulla perché l'abbiamo detto per tutto per gli smartphone, per i tablet c'è chi lo sta dicendo per robe come l'Oculus Rift che invece no no e il futuro della tecnologia è del gaming, ok? e soprattutto delle relazioni a distanza tra l'altro altre due cose impressionanti che sono avvenute durante l'evento Apple la prima è che è stato presentato il nuovo MacBook e lo so sto facendo un po' il fanboy però è bello il nuovo MacBook è sottile sottile così tanto che sono state impiegate delle tecnologie simili a quelle dei tablet anche nella batteria perché il computer è così sottile che si è dovuto utilizzare delle celle particolari insomma roba interessante vi lascio in descrizione un sacco di link nei quali se ne parla meglio di quanto potrei fare io il punto è che sono belli assolutamente non performante cioè è un tabletone alla fine non serve a guardare Facebook e forse ma dico forse a giocare a Candy Crush senza esagerare con moderazione non c'è nemmeno un avvento dentro quel computer però design seconda cosa fantastica siccome c'è una sorta di alleanza tra Apple e HBO e alleanza è la parola più sbagliata che potrei dire visto che stiamo parlando di accordi fra aziende ma hey stiamo anche parlando del nuovo trailer di Game of Thrones e a questo punto immagino che io sarei un'ottima persona percorrere la carica di Public Relations di HBO perché ad un certo punto l'hype e l'attesa diventano insostenibili e ancora più grandi di quella che poi è effettivamente l'esperienza di guardare la serie tv capito quello che ho fatto? era una frecciata a chi mi accusa sempre del fatto che faccio troppo hype eh 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 prendi e porta a casa Billy peraltro in descrizione come al solito come transazione alle cose più importanti vi lascio qualche video che ho trovato fantastico in giornata e ce n'è uno che vi farà fare è uno che vi farà piangere è quello che vi farà fare il tipo di mossa di protezione che si fa davanti a un monitor quando sai che sta per succedere qualcosa e non la vuoi vedere però un po' la vuoi vedere quindi la guardi così non ve lo mostro per intero perché è una donna che in palestra sta usando la leg press non so se avete presente la leg press è un peso che tu sollevi con le gambe per irrobustire i muscoli delle cosce ma è nozione comune che quando si usa la leg press le gambe non debbano essere completamente distese perché se si distende completamente il peso è troppo c'è il rischio che la gamba si spezzi ed è quello che accade nel video ed è terrificante altrimenti se voleste vedere qualcosa che vi farà piangere ok arriveranno i sentimenti in un suo recente video pubblicitario che è già stato visto milioni di volte Samsung Samsung capito? perché è una freccia perché prima ho parlato di Apple adesso parlo di Samsung così eh? eh? me ne vado ha creato una sorta di candid camera slash scherzone però in questo caso in positivo dato che il protagonista che non sa quello che gli sta per accadere è un ragazzo sordo che assieme alla sua amica che è complice ovviamente e che sa parlare sa esprimersi con il linguaggio dei segni va in giro per il suo paese senza sapere che molte persone nel suo paese nel quale ovviamente sono state precedentemente messe delle telecamere dappertutto hanno seguito dei corsi di linguaggio dei segni e quindi mentre lui passeggia per la città si accorge che molte persone gli parlano anche dicendogli cose piccole buongiorno grazie tutti quanti con il linguaggio dei segni poi a un certo punto si piange quindi ve lo dico ovviamente sotto al video è pieno di gente che dice buuuu perché le persone devono dire buuuu per il semplice fatto che il video è stato fatto da Samsung ed è stato ovviamente fatto per essere virale ed essere condiviso in modo che poi si faccia pubblicità a Samsung e quindi si ritorna sempre al solito vecchio problema che vede collidere il mondo del cinismo con il mondo dell'anticinismo non è una parola anticinismo nel momento nel quale ci si chiede fare qualcosa di buono ma farla per se stessi o per perseguire un proprio tornaconto personale è comunque fare qualcosa di buono? se io dono dei soldi in beneficenza ma lo faccio per farmi vedere sto comunque donando dei soldi in beneficenza e quindi è una cosa positiva o è una cosa negativa? e se con un calcio rotante fermo un'aggressione per strada ma lo faccio per farmi bello agli occhi della barista che mi sta guardando è sempre qualcosa di positivo oppure no? parlando peraltro di dilemmi morali importantissimi oggi il Washington Post che come potete immaginare è un giornale che evidentemente ha sede a Washington dedica un lungo articolo alla ventilata possibilità della quale peraltro non abbiamo mai discusso di creare dei quartieri dedicati alla prostituzione quindi dei quartieri a luci rosse a Roma precisamente nella zona EUR apparentemente per far fronte al problema del pazza pazza prostituzione a Roma senza controllo e quando si è ventilata questa ipotesi quando il sindaco Marino ha detto mmmm magari vediamo di fare questa roba qui e il governo centrale è esploso e ha detto assolutamente no e quindi c'è questa sorta di braccio di ferro che non si sa bene dove porterà se porterà a nulla di fatto o porterà effettivamente all'istituzione di questa roba qui alcuni di voi mi hanno chiesto cosa ne pensi e la mia immediata risposta è stata ehm perché il punto è che anche se in Italia la prostituzione non è esattamente illegale ma è illegale andare a prostituire la legge è un po' strana rimane comunque il fatto che quando si accede a questo servizio ci si sta muovendo nell'illegalità e il punto è che se non si riesce in questo momento ad impedire a chi vuole prostituirsi di farlo in ogni dove nella città non vedo come effettivamente dire alle prostitute e ai prostituti maschi ai gigolo ehi gente andate a prostituirvi lì perché adesso lì potete e qui non potete io non vedo come questa roba potrebbe cambiare alcunché se non ci sono le forze dell'ordine per impedire che la prostituzione avvenga in tutte le strade anche se tu dici loro ehi fatelo di lì penso che succederà ugualmente quindi io volevo chiedere a voi gentaglia cosa ne pensate? se fosse possibile facciamo finta che sia attuabile che abbiamo le forze dell'ordine per una volta deciso di fare dei quartieri a luci rosse far rispettare questa decisione e togliere la prostituzione da tutte le altre zone specie quelle dove la gente magari vive con le famiglie e non so gli anziani sareste d'accordo o non sareste d'accordo? è perché è una questione etica? è una presa di posizione? non lo so fatemelo sapere nei commenti e mi raccomando aggiungete anche nel commento ma io a prostitute non andrò mai e non sarò mai andato come apparentemente dice la quasi totalità degli italiani anche se poi i dati sono... sono diversi sono... non... sono diversi in ultimo gentaglia dall'estero due cose la prima è l'incidente del quale probabilmente avete già sentito parlare quello che vede la morte di dieci persone qui in Argentina anche se la maggior parte dei morti in realtà sono francesi che stavano partecipando a una sorta di versione d'oltre alpe della nostrana isola dei famosi che si chiama però dropped e appunto chiamandosi dropped questo implica che le persone che devono poi partecipare al reality slash survival game debbano essere calate sull'isola da degli elicotteri ma per delle ragioni che saranno da chiarire i due elicotteri che calavano i VIP sull'isoletta si sono toccati in volo il che ha creato dei problemi perché immagino lo sappiate no? elicottero, elicottero... un casino scienza e questo ha visto appunto la morte di tre persone compresi tre atleti di fama internazionale che sono Florence Artaud, Alex Vistin e Camille Mouffat ho probabilmente distrutto i loro nomi tutti e tre e TF1 l'emittente televisiva francese che trasmette il programma ha diffuso un comunicato annunciando che le riprese sono state interrotte e che verranno posticipate e questo ha fatto infuriare un sacco di gente che ha detto come osate, come interrotte dovreste completamente cancellare il programma e difficilmente questo accadrà a meno che economicamente non abbia senso cancellarlo perché so che in questo momento molti si stanno lanciando lunghe filippiche dicendo ah dove è arrivata la nostra società arriviamo ad arrampicarci sugli elicotteri a fare cose ma la verità è che probabilmente non stavano facendo nulla di particolarmente pericoloso in televisione non mandano dei vip a fare delle cose pericolose li hanno messi su un elicottero e quando stai su un elicottero come quando stai su una macchina come quando stai su una nave c'è un minimo di possibilità che ti succeda qualcosa personalmente io vedo il tutto come una tragica fatalità e punto mi raccomando comunque su Facebook andate a cercarveli perché ci saranno sicuramente tutti i commenti delle persone che dicono ha ha la la lero speriamo che succeda anche a quelli di l'isola dei famosi da noi tutti la guardano l'isola dei famosi è uno dei programmi più seguiti in assoluto è come quando ero piccolo e tutti odiavano il grande fratello e tutti guardavano il grande fratello non capisco perché bisogna sempre approcciarsi alle cose in questo modo io personalmente non guardo l'isola dei famosi non mi piace mi annoia non conosco nessuno dei personaggi perché non guardo quel tipo di tv ma mi rendo conto che sia qualcosa di leggero che magari qualcun altro potrebbe gradire non è che adesso dobbiamo guardare soltanto film impegnati e soltanto cose pallose mentre uno si guarda l'isola dei famosi io gioco a Minecraft cioè non è che sia particolarmente culturale come cosa e questo gentaglia è tutto quello che avevo da dirvi per oggi grazie per aver guardato essere arrivati sino a qui e grazie mille a questi tre alfieri di oggi che sono tre cuochi di Bologna e apparentemente guardano Breaking Italy mentre cucinano alla sera o qualcosa di questo tipo quindi grazie mille Ria grazie mille Valentino e grazie mille Carlo questo è tutto quello che avevo per voi e per tutti gli altri per oggi ci vediamo domani grazie mille